Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A11 rallentamenti per un incidente tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Parma e Chiusichianciano e sulla variante di Valico, in A11 e in Fippi Lì lungo tutto il percorso e in A12 tra Livorno e Rosignano. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi con visibilità ridotta in A15 tra Berceto e Pontremoli. Sulla statale A12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per frana al km 68 e 950 tra Popiglio e la Lima. Sulla strada provinciale 34 via di Rosano fino al 23 marzo senso unico alternato per il ripristino di una frana al km 7 e 500 in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!